Riccardo Scamaro non ha bisogno di presentazioni, sicuramente accanto a lui c'è Cesare Fiorio, che lui interpreta il numero di Montini, abbiamo Stefano Montini che è il regista che gli ha messi Abbiamo Walter Cook che interpreta Walter Rohr nel film, Giamma Bia Martini che interpreta il cattivo nel film perché è Nicola, il rivale della Lancia, poi abbiamo Giampaoletta di Berlusapino e Samantha Antoni Pagliari. Io credo che Race for Glory non sia soltanto la storia, il racconto di una grande impresa sportiva, dell'ultima vittoria mondiale con un'auto che aveva due ruote motrici. Race for Glory secondo me è anche il racconto di come un successo sportivo possa cambiare il destino di una casa perché forse senza quella vittoria nel 1983 della Lancia non avremmo poi avuto le Lancia che hanno dominato con la Delta e poi la Lancia che adesso sta ripensando a un nuovo rinascimento perché come tutti sappiamo la Lancia sta ritornando ad essere un marchio importante e l'augurio che presto tornerà a partecipare anche alle corse. Race for Glory credo che sia soprattutto una storia di uomini, una storia di uomini che nel film è interpretata da Cesare Fiorio ma che sotto Cesare Fiorio vede tutta la grande squadra corse Lancia che è qualcosa che ha permesso all'ingegno e alla creatività italiana di avere sopravvento contro la grande tecnologia tedesca, quella che era come dice Scamarcio all'inizio del film una vera armata perché l'Audi si presentava in grandissime forze e per riuscire a battere quell'Audi ci volle tutto il genio di Cesare Fiorio e degli uomini e delle donne che lavoravano con lui all'interno della squadra Lancia che negli anni Ottanta era qualcosa di particolare e di unico. Comincerei a chiedere a Riccardo Scamarcio ma come ti è venuta questa passione per il rally, come ti è venuta a questa voglia di raccontare Cesare Fiorio su questo 1983? Io diciamo non ero un appassionato di rally, mi ricordavo come forse tutti la S4, la Delta Integrale da bambino così e poi ho visto dei video su internet di questo campionato del mondo dell'83 e ho detto ma qui c'è proprio un aspetto che mi interessa molto, appunto questo confronto tra l'umanità, la genialità, la passione, l'audacia, il coraggio, un bricolo di follia, di astuzia di un uomo che riesce a mettere in crisi l'arroganza della tecnologia e del danaro e quindi pensavo che fosse metafora anche di un modus operandi, di uno stile, di un modo di essere e che questo in qualche modo potesse rinfrescarci le idee a tutti noi italiani di chi siamo, da dove veniamo, queste caratteristiche è stata un'altra Italia-Germania 4 a 3 praticamente esattamente chiaramente tutto questo all'interno di un racconto sportivo, di competizione, di sfida che chiaramente sono elementi che possono generare anche intrattenere il pubblico, incuriosirlo e farli vivere un'esperienza divertente e poi questa semplicità di un mondo meccanico, analogico e non elettronico, ecco questa semplicità e questa onestà che forse sono due aggettivi un po' in disuso, mi rendo conto che la società contemporanea invece vuole mettere in scena dei supereroi che hanno armi incredibili che volano, ecco qui non vola nessuno nel nostro film solo le api di Walter vuole solo le api di Walter vuole esattamente e poi tutto questo appunto condito però con un con l'ausilio di un quindi elogiando anche una diversità che nel mondo tedesco insomma un po' conosciamo se pensiamo alla letteratura tedesca il romanticismo di un pilota tedesco il romanticismo germanico ecco quindi noi trattiamo anche l'avversario elogiando ecco mi sembrava che ci fossero questi elementi che ci mettono anche al riparo da nazionalismi stupidi prima di interpretare Cesare Fiorio sullo schermo mi sembra che tu abbia appeso le parti di Cesare Fiorio perché hai fatto un po' il team manager di questo film hai dovuto fare un po' trovare i finanziatori trovare gli sponsor andare a trovare le auto con cui girare questo film hai dovuto fare davvero Cesare Fiorio per realizzare questo film che ti hai rimesso in testa sì, diciamo che il lavoro di produttore che ho fatto con questo film era un training perfetto per il personaggio cioè quindi forse non mi sono mai preparato così bene non ho mai preparato un personaggio che dovevo interpretare così bene come ho fatto in questo film ecco le due cose collimavano perfettamente Cesare come è stato rivederti sul grande schermo interpretato così bene da Riccardo Scamaccio il 1983 è stato soltanto uno dei tanti anni in cui tu hai vinto qualcosa ricordiamo quest'uomo ha vinto qualcosa come 19 titoli mondiali ha vinto nei rally ha vinto in Formula 1 ha vinto nel mare sul mare con Destriero insomma ha fatto la storia dello sport italiano sicuramente come è stato rivederti sul grande schermo? Devo dire che è stata una grande emozione comunque anche perché il ricordo di quell'anno lì 1983 è stata una grande vittoria che noi abbiamo conseguito nelle tante che abbiamo fatto però quella lì in particolare era particolarmente significativa perché significativa? perché era arrivata l'Audio con le quattro ruote motrici e dominava dappertutto erano campioni del mondo avevano vinto non so 100 gare vincevano dappertutto e noi non avevamo ancora quella tecnologia delle quattro ruote motrici dovevamo usare la tecnologia delle due ruote motrici però avevamo l'esperienza della Lancia Stratos con cui avevamo vinto tre campionati del mondo prima e con quella abbiamo costruito una macchina molto leggera la 037 che era poi la protagonista di questo film di quegli anni e con la 037 abbiamo vinto il campionato del mondo davanti alle Audi quattro ruote motrici quella è stata l'ultima vittoria di una macchina con due ruote motrici davanti alle quattro ruote motrici poi evidentemente anche noi abbiamo acquisito questa tecnologia e di lì in poi non ce n'è stata più per nessuno lei gli anni 80 erano anni particolari per il mondo dei rally perché allora vincere nei rally voleva dire vendere più vetture sul mercato cioè l'importanza dei rally era qualcosa di particolare per cui avevate una grande responsabilità voi della squadra Corsa e Lancia Cesare ma diciamo che io tutti gli anni dovevo andare a difendere il mio budget nelle consigli di amministrazione della Lancia perché evidentemente tutti gli altri componenti della squadra cioè che erano la pubblicità, la tecnica, gli ingegneri tutti volevano dei budget anche loro consistenti e io dovevo difendere il mio però il mio budget era sempre inferiore alle nostre aspettative anche perché le gare erano diventate molto complicate e la concorrenza era molto forte per cui in quel momento ho avuto accesso, ho portato dentro degli sponsor ho dipinto le macchine con i colori di grandi sponsor che hanno corso per noi come la Malboro, come la L'Italia, come la Martini Rossi noi siamo stati i primi in assoluto a avere questo tipo di supporto che poi evidentemente è stato anche copiato ma all'inizio eravamo solo noi per cui quello ci ha aiutato molto in questo budget che dovevamo mettere insieme È stato un po' un visionario del mondo delle corse Cesare Fiorio perché ha fatto cose che poi gli altri hanno cominciato a fare dopo ha parlato degli sponsor ma poi c'erano anche i punti radio con gli elicotteri qualcosa che nel film viene reso bene perché l'uso degli elicotteri è stato qualcosa che Cesare Fiorio aveva portato in pista, in strada prima degli altri Passerei alla regista Stefano Mordini Il rally si dice all'inizio del film è la parte più democratica del motorsport perché è una gara che si corre in mezzo alla gente si corre sulle strade che siamo abituati a frequentare con le nostre auto riuscire a rendere così bene un rally quindi farci vivere i rally dall'interno dell'abitacolo ma anche con tante riprese che ci portano proprio ad assaporare la velocità è stata senza dimenticare poi il lato umano perché in questo film c'è tante corse ma c'è anche un lato umano molto importante quindi un film che va bene per i grandi appassionati ma per chi vuole soltanto vedere una bella storia al cinema Già detto tutto abbiamo approcciato il linguaggio in quel modo lì ci siamo posti il problema sin dall'inizio di come dare l'idea della velocità di come il pilota interpreta la macchina e di come la macchina risponde al pilota stando dentro sempre una dimensione di vero semiglianza abbiamo di base approcciato il film senza pensare agli effetti speciali e poi il rapporto fra auto e territorio come inserirla dentro ci siamo detti più volte è un film sulla natura perché queste macchine attraversano territori continuamente li fanno proprio passano attraverso le case passano attraverso le persone non girano in un circuito subiscono il tempo che cambia il terreno che cambia io sono un appersonato di ciclismo e quindi in realtà per me io a maggio guardo il giro d'Italia questi posti li avevo già visti con ciclismo oltre che con rally anch'io in realtà non nasco come appassionato di rally però ovviamente poi per il film abbiamo fatto un grosso studio e ovviamente mi sono visto tutto ma detto questo anche sul rapporto come dicevi tu giustamente tra la sensorialità del rapporto pilota direttore sportivo squadra gente meccanici e il racconto sportivo sia dal punto di vista automobilismo che dal punto di vista umano ma comunque la scelta di fare tutto reale di non avere nulla ricostruito dal computer le auto sono vere che hanno messo a disposizione dalla lancia le location sono le location reali quindi si è giocato molto sul realismo si è un rischio perché in realtà siamo in dei tempi anche come diceva Riccardo il cui l'era digitale ci permette qualsiasi cosa però ci siamo calati anche nello spettatore non solo di cinema ma anche di chi vedeva passare il rally cioè tu vedevi passare una macchina questo è uno sport molto difficile da raccontare perché è sempre una crono corre contro il tempo non contro l'altro il duello che c'è nel film è stato realizzato in un trasferimento quindi non è uno sport facile da raccontare in termini sport e tutto quello che tu dici in realtà ha partecipato a un racconto emotivo personale oltre che sportivo Walter Brooker Volker Brooker e Walter Rohr nel film quindi l'uomo che porta questa lancia poi a conquistare insieme a Mark Wallen il titolo mondiale Marche mentre il titolo mondiale piloti va a Micola in quell'anno si vede il grande campione di rally ma si vede anche l'uomo il lato romantico di Walter Rohr come è stata interpretare mettere nei panni di ogro questo progetto quando questo progetto veniva ero due momenti quando mi sono in love con il tutto e il primo è quando mi metto Riccardo in Roma che era bella bella l'ancia è stato chiaro che questo è che voglio essere l'ancia in l'ancia 0 37 è così e questo è anche l'ancia 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 è l'ancia 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 è l'ancia è l'ancia non l'ancia l'ancia perché piace la perfezione di fare ciò che è bene. Il secondo è quando mi sono seduto nella lancia, perché l'esperienza è stata magica, è stata davvero potente. Quindi il mio ruolo combina perfettamente questo senso, questa idea di indipendenza dal successo, cioè un personaggio che sa bene di essere molto bravo in quello che fa e quindi non fa quello che fa per essere amato dagli altri, ma sa di farlo perfettamente e quindi è questo il senso. Intanto vorrei ringraziare in prima fila Filippo Bologna che è lo sceneggiatore del film e il frattore di Baldi che da una vita lavorano sui motori, prima Ava e poi Lancia. In questa vittoria speriamo di avere una parte importante. Grazie, grazie. Passerei a Gianmaria Martini che forse è l'unico pilota reale su questo palco, visto che ho letto che tu da ragazzo hai fatto davvero il pilota di rally. Sì, no, io non ho fatto più il pilota di rally, io ho corso in pista, in realtà era una cosa molto diversa. Va bene, non ve la racconto perché è un po' lunga, comunque ho cominciato da ragazzino e poi a vent'anni ho avuto un incidente per cui ho dovuto smettere in sostanza. Però correvo in pista ed era una cosa completamente diversa. Infatti quando Stefano mi chiamò e mi disse Maria, te la senti di guidare realmente tu la macchina così evitiamo di usare appunto... Beh, lo stuntman sì, ce l'ho avuto perché comunque a un certo punto devo fare un incidente e io non sarei in grado di fare un incidente con una macchina, chiaramente. Però la controfigura non l'ho praticamente mai usata e io ho detto ma... me la sento, forse dobbiamo organizzare qualche oretta in pista per vedere perché queste appunto sono macchine originali, sono macchine che hanno una quantità di cavalli, una difficoltà di guida e però effettivamente l'ho provata e ho subito risentito quelle sensazioni che avevo da ragazzo anche se la tipologia di guida è completamente diversa e ho detto sì, effettivamente credo che abbiamo fatto bene perché comunque ho guidato sempre sono stati forse i due mesi più belli degli ultimi miei vent'anni perché recitavo e guidavo, che sono le cose che amo di più in assoluto nella mia vita quindi praticamente quando è finito il film ho avuto un trauma per un mese non sapevo cosa ero e cosa dovevo fare nella vita, è stata un'esperienza meravigliosa. La cosa che mi ha colpito molto di questo film è appunto la capacità che hanno avuto di raccontare come diceva Stefano, una cosa che è molto difficile da raccontare perché io correvo in pista, in pista la formula 1 diciamo, uno è più facile da raccontare perché c'è quello lì che si inserisce, l'altro che fa l'incidente, tu che lo sorpassi cioè è quasi un romanzo in diretta, mentre la lotta contro il tempo come diceva Stefano è una cosa molto difficile da raccontare e infatti io trovo che Riccardo e Stefano abbiano avuto un colpo di genio dal mio punto di vista. Grazie. RIS4Gloy è anche una cooperazione, una collaborazione tra Rai Cinema e Medusa. Samantha Antonicola di Rai Cinema, ci può raccontare come è il vostro ruolo in questa produzione? Noi siamo diciamo coproduttori insieme a Riccardo del film Quindi è riuscito a fare una bella squadra alla fine Riccardo insomma No, Riccardo si è presentato da noi a raccontarci il film, a farci un pitch che in dire trascinante è un eufemismo perché ci ha proprio collati a Paolo del Brocco e a me, alle sedie e ci ha praticamente recitato e raccontato tutto il film quindi noi siamo venuti a conoscenza di questa storia cioè praticamente ci ha illustrato la sceneggiatura tutti i momenti, tutti i passaggi, tutto e quindi siamo rimasti dopodiché ci ha inviato la sceneggiatura che è una delle poche sceneggiature dove Riccardo mi ha testimone cosa abbiamo detto? Niente Era una storia talmente appunto ben scritta e così avvincente e questo eroe, questo personaggio che io ignorantemente non conoscevo ma era talmente appassionante ed era appassionante come Riccardo ci faceva appassionare a lui quindi insomma ci siamo veramente scivolati dentro con molto molto piacere con questa cosa che avete già ripetuto due o tre volte ma è vera pure noi all'inizio erano scettici perché dicevamo ma come si racconta a rally? Tu vedi una macchina che guida ma come fai a creare quel pathos, quella suspense, quella che serve? Loro ci sono riusciti Gian Paolo Letta di Menusa Film forse per lui il mondo delle auto, il mondo delle competizioni non è così estraneo perché insomma lui da ragazzo, io l'ho conosciuto ai tempi, nella sua giovinezza è stato per anni in Ferrari eseguiva le gare della Ferrari in Nord America quando la Ferrari vinceva le gare di Endurance in Nord America quindi ti ha fatto ritornare bambino forse Assolutamente sì e io ovviamente Cesare Fiori invece lo conoscevo anche se non personalmente perché era ed è un mito di chi ha vissuto quegli anni ed è rimasto perché poi per tanto tempo su tante cose tutto quello che ha fatto nel mondo del motorsport e non solo motorsport anche aquasport è un mito assoluto No, noi siamo stati altrettanto contagiati dall'entusiasmo del direttore sportivo Riccardo Scamarcio che appunto ci ha raccontato con grande energia di questo progetto e quando poi ne abbiamo parlato insieme agli amici dei cinema siamo stati subito convinti di fare questa collaborazione sotto il profilo distributivo il film uscirà giovedì prossimo 14 marzo in 360 Cinema quindi un'ottima uscita e siamo molto felici Stefano lo conosciamo da tanti anni perché abbiamo fatto anche ha esordito esatto con noi quindi una squadra Riccardo è riuscito a mettere insieme una squadra di grandissimi professionisti e ultima cosa che aggiungo secondo me merito degli sceneggiatori l'idea insomma aver raccontato gli anni Ottanta da un punto di vista molto originale e insolito perché in genere si raccontano altre cose se ne è raccontato tante volte al cinema degli anni Ottanta questo è un punto di vista molto originale e diverso grazie ringrazio di aprire le domande alle domande della sala ho una curiosità per Riccardo qual è stata la parte più difficile nell'organizzazione di questo film per te riuscire a creare la storia o la storia ti è venuta così naturalmente sentendo tutti i racconti che Cesare ti ha fatto nel corso dei vostri incontri diciamo qui questa forse è una domanda dovresti fare più a Stefano che a me perché è stata è stato Stefano che da subito ha individuato un elemento fondamentale ha detto benissimo dobbiamo raccontare il mondo del rally non è mai stato fatto siamo negli anni Ottanta c'è questo aspetto della meccanica che la fa da padrona che si differenzia dal mondo dell'unico sport contemporaneo lui questo approccio radicale estetico che il film porta in scena cioè appunto l'assenza di trucchi il fatto di poter andare dritti al cuore chiaramente anche perdendo qualcosa da qualche parte no? quindi esponendoci a un rischio però questa è stata secondo me un'intuizione che io ho sposato da subito giustamente lui è un regista io non lo sono e quindi però ha secondato detto sì questa è la chiave questa cosa qui ci porta dritti al punto e a far collimare l'estetica del film con quello che cerchiamo di raccontare qual è il cuore pulsante di questo film quei due elementi semplicità e onestà e poi sì poi chiaramente il mio rapporto con Cesare è stato fondamentale Cesare ha una masseria in Puglia non molto lontano da dove ho anch'io un'azienda agricola fa l'olio come del resto lo faccio io lui mi sembrava mi sembrava incredibile questa cosa che un torinese che si fosse trasferito in Puglia dico allora veramente c'è un punto di contatto c'è qualcosa che ci accomuna veramente un torinese che aveva tradito la Sardegna per la Puglia perché lui per tanti anni aveva frequentato la Costa Smeralda invece poi si è innamorato della Puglia e si è stabilito di perché la Puglia in questo senso anche lì ha ritrovato forse questi due elementi semplicità e onestà non voglio ripetermi però ecco queste due cose sono fondamentali e per noi insomma veramente Stefano è stato bravissimo io ho assecondato e l'ho sostenuto in queste scelte chiaramente andando a rompere le scatole a tutti quanti in primi Savarai che li ho massacrati per un bel po' ho cominciato a raccontare questa storia a Salmante e a Paolo guardate che questa è una storia pazzesca ragazzi si vabbè ti conosciamo lo sappiamo no no ragazzi però allora andava a scitofonare Paolo senti oddio santo oddio che angoscia di nuovo eccolo qua quindi diciamo mi sono nati è un po' come faceva Cesare con i piloti no per convincere a guidare per lui dovevi sono ispirato a Cesare che mi ha raccontato anche di come diciamo con la sua tenacia è riuscito poi a coinvolgere anche perché Cesare è stato il primo che ha introdotto il concetto di sponsor all'interno del rally no poi poi l'hanno limitato tutti l'hanno copiato tutti così come il fatto di fare il ponte radio con un aereo che lo garantisse perché chiaramente quello di affidarsi a un medico che nel medico sportivo c'è il medico sportivo che nel c'è Jane McCoy che nel film che in realtà poi il medico della squadra lancia era il medico Ben Bartoletti adesso parterei a sentire qualche domanda del pubblico ecco grazie sono qua Giulia Bianconi del tempo volevo chiedere questo a Riccardo Scamarcio che prima dicevi che questo film è una metafora di uno stile di un modo di essere di un'Italia che forse oggi non c'è più fatta così di passione di genialità non so quanto rispecchia l'Italia di oggi quanto appartiene a un'Italia del passato se posso una seconda a questo punto del tuo percorso artistico tra attore e produttore reduce da un film con Giulia Depp adesso questo nel senso cosa ti interessa nei film che porti in sala raccontare mi interessa mi interessa mettere al centro questi aspetti degli uomini mi interessa interpretare dei personaggi che sono mossi da da una passione e non da da un ritorno come dire economico del successo ma nella realizzazione di un ideale ecco che sono degli idealisti in qualche modo così come lo è Cesare in questa storia così come lo era Modigliani e diciamo che per fortuna mi capita di interpretare personaggi così in fondo se c'è proprio un elemento che la responsabilità come dire un potere che l'arte eventualmente ha è proprio quella di rimettere l'uomo al centro siccome viviamo in una società tecnocratica dove vuole vedere invece l'uomo schiacciato dalle macchine penso che ci sia bisogno di fare di fin così c'era la prima invece sull'Italia quanto rispecchia diciamo l'Italia di oggi parlavi di uno stile un modo di essere ma l'Italia è omologata a tutto il resto del mondo che cosa vuoi che ti dica quindi forse in qualche modo questa parte dell'Italia siamo vivi siamo qui va tutto bene abbiamo ancora l'intelligenza la sensibilità di capire che queste cose di cui sto parlando sono importanti a parole e poi però devono seguire i fatti quindi diciamo sono un po' anacronistico se no adesso derivo avevo chiuso bene se no adesso aggiungo delle cose e succede facciamo il patatrac giusto Gian Paolo sto diventando diplomatico ragazzi dai buongiorno Francesca Pierleoni dell'Anza volevo chiedere a Mordini anche a Scamarcio anche come coautore della sceneggiatura alla fine scrivete precisate che il film è ispirato ai fatti non può essere ritenuto però una descrizione esatta dei fatti volevo sapere dove vi eravate un po' staccati soprattutto e poi volevo chiedere a Fiorio quale aspetto parlando Coscamarcio per lei era più importante che emergeste della storia grazie ma rispondo velocemente alla prima domanda perché in realtà all'interno di questo campionato qui c'è una morte in realtà quell'anno lì non fu così nel rispetto anche di questo rapporto tra il rischio la morte le persone ci sembrava giusto come dire puntualizzare che alcune cose sono state parte parte di una scrittura però non volevamo escludere da questo racconto visto che poi magari Cesare mi correggerà era il gruppo B erano prototipi erano macchine pericolose e due anni dopo poi se lo sbaglio fu chiuso il gruppo B volevamo raccontare qual era anche il rischio a cui andavano incontro però per onestà e anche rispetto a chi purtroppo ci ha messo la vita non volevamo approfettarci quindi abbiamo chiarito questo punto invece io volevo solo aggiungere una piccola una piccola cosa i rally a quei tempi lì erano assolutamente famosissimi e molto frequentati dal pubblico quando si correva a Monte Carlo soltanto sul collo del Turinizia hanno 50.000 spettatori cioè si correva tra due anni di folla e per cui queste erano tutte cose che adesso purtroppo si sono un po' allontanate e sono un po' sparite ma diciamo che il rally di Monte Carlo era importante come la 24 di Le Mans come una gara di Formula 1 tutte cose che oggi non ci sono più per quanto riguarda i piloti certamente lo sport automobilistico è uno sport pericoloso per cui in tutte le sue anime ha avuto delle vittime per cui anche le in Formula 1 le ha avute nei sport prototipi le ha avute anche nei rally per cui questo è una cosa che purtroppo fa parte della storia delle gare automobilisti Allora vado io Roberto la mia domanda ovviamente anche da fan è come commenti e reagire con un mito cioè io oggi grazie a te ho la foto e la dogfo del mito quindi perché per me è un mito scusate io parlo da appassionato quindi commenti e reagire con un mito che magari c'è lì accanto a livello umano e grazie ancora per questo film parto dalla seconda domanda interagire con un mito come Cesare è come mi è capitato di interagire con altri miti nella mia vita che io reputo tali c'è un'adesione una sensibilità un'umiltà una semplicità una gentilezza d'animo infinita e quindi la statura umana di Cesare è quella che mi ha colpito ancorché quella professionale artistica e queste due cose coincidono sempre almeno mi è capitato anche quando ho conosciuto Johnny Depp e Al Pacino ultimamente devo dire che diciamo mi viene da fare il paragone perché l'attitudine è sempre quella poi dietro un grande artista come Cesare c'è sempre per forza un grande uomo una grande umanità e poi qual'era l'altra domanda? il cast ah il cast con Stefano ci siamo messi così a un certo punto mi hanno detto va bene allora forse ci riusciamo a mettere in piedi sto film questa follia e quindi abbiamo cominciato a pensare nei nomi io ho già lavorato con Daniel Bru in un film che si chiamava Il sapore del successo in inglese quello con Bradley Cooper e quindi insomma l'abbiamo l'abbiamo contattato e Daniel ha detto sì sì mi piace il copione a letto ci sto voglio fare Cooper e poi invece per Volker è stato molto semplice perché a un certo punto ci arriva questo video di Volker che a casa sua d'estate era un video che gli ha fatto sua moglie di lui che sale su una scala e che prende con le mani un alveare da un albero beh dicono vabbè basta noi ci siamo io e Stefano ci siamo guardati è lui cioè è lui è proprio il nostro personaggio per cui ecco questa questa anche anche Volker è una persona dotata di questa grandissima sensibilità che ha sposato il progetto che poi a un certo punto seppure perso tra le montagne o almeno noi abbiamo pensato a un certo punto mentre giravamo in Piemonte vi racconto questo piccolo aneddoto parte la notizia perché praticamente non si trova più Volker non raccontiamo che lui perché lui se ne va a fare passeggiate in montagna eravamo veramente a 2007 sperduti su seppione sì su seppione esatto e e lui aveva il day off poi a un certo punto ci dovevamo trasferire in quel giorno non lavorava e niente se ne è andato è sparito per 7-8 ore noi abbiamo dovuto chiamare abbiamo dato l'allarme abbiamo chiamato le guardie campestri ha chiamato Riccardo ha detto non trovo più Volker non si trova più Volker si è perso le montagne poi è tornato tranquillo alle 4 e mezzo di pomeriggio noi eravamo morti tutti ovviamente si è diffusa la notizia in tutta Italia però dico queste sono diciamo le esperienze che poi a un certo punto quando si fanno un film uno può anche vivere è un grande è un grande Volker appassionato la natura vero lui fa trekking se ne va vuoi dire qualcosa? that was a big misunderstanding è stato veramente è un grosso equivoco a San Evole ho detto niente pesca subacqua attaccate gli gps c'è un'altra domanda per io Rosalba Rossigno cine club cine all'andostia una domanda per il regista per Riccardo Scamaggio l'assenza della vita familiare o della vita privata dal film è una scelta mirata è una scelta è una scelta è una scelta drammaturgica l'abbiamo fatta con Filippo con Riccardo sin dall'inizio volevamo raccontare la genialità di un grande professionista l'idea di questa sessione per la vittoria non volevamo entrare nel racconto della vita privata abbiamo fatto una scelta radicale sin dall'inizio ci interessava Cesare Fiorio per quello che ha portato nel motorsport per il suo modo di viverlo per questo suo rapporto perché altrimenti avrebbe dovuto raccontare un altro tipo di racconto che in questo caso non ci apparteneva e devo dire che lo troviamo anche già un metodo già usato insomma e su questo abbiamo fatto una scelta difficile perché sono sempre situazioni che ti aiutano ad alleggerire un racconto ma su questo insieme a Filippo Riccardo abbiamo fatto una scelta dall'inizio forse ci vorrebbe una serie per raccontare poi la vita privata esatto un pochino esatto sono d'accordo nel senso fare una scelta vuol dire fare proprio questo poi comunque ci sono dei camei in cui c'è la moglie di suo figlio c'è il suo nipotino e c'è anche lui perché a un certo punto lo hai messo a un tavolo a Monte Carlo oltre al cameo principale che credo è quello che sia di Lapo che interpreta suo nonno nell'ascensore di Corso Marconi va bene vi ringraziamo tutti un applauso credo c'è forse un'ultima domanda c'è un spazio per un'ultimissima domanda allora in realtà se posso due domande se posso allora come già sono Massimo brigandini di cineclandestino allora come già ha sottolineato una collega naturalmente alla fine del film viene detto che naturalmente questo è un film non un documentario quindi è giusto ricordarlo perché insomma soprattutto in un'epoca social poi sappiamo che le discussioni su internet su quello che era che non era poi vanno avanti all'infinito però volevo domandare un po' a tutti anche a Cesare Fiori o allo sceneggiatore visto che è in sala cosa c'è di vero in un paio di episodi nel rapporto alle volte conflittuale col capo meccanico e nell'episodio molto buffo molto divertente delle auto che sono state spostate da un parcheggio all'altro per riuscire a superare diciamo un problema poi ho una breve seconda domanda se possibile se posso rispondere alla domanda che ha fatto allora aspetta mi chiedo subito un'altra cosa volevo sapere visto che c'è un sceneggiatore in sala se l'incidente che viene mostrato per Kurt sei ispirato a quello connessi di più drammatici che ebbe Toivonen pochi anni dopo e che portò poi alla chiusura della poi diciamo che lo sport automobilistico come ho detto prima ha sempre avuto degli interpreti e anche delle vittime per cui questo vale sia per i rally sia per i prototipi sia per la Formula 1 sia per la Formula 3 qualunque gara motoristica comporta i suoi rischi e questo sicuramente fa evolvere anche i regolamenti che la federazione emette per cui piano piano si cerca di ottenere una maggior sicurezza nelle macchine maggior sicurezza nella protezione dei piloti maggior sicurezza nelle strutture ricettive che devono accogliere queste gare e per cui la sicurezza è molto migliorata però all'inizio della mia esperienza lì non esistevano neanche le citture di sicurezza nelle macchine per cui diciamo c'è stata una grande evoluzione da questo punto di vista chiedevano se il numero delle macchine quella è l'unica cosa non vera del film se posso dire perché noi eravamo molto rispettosi dei regolamenti esistenti in 40 anni di corse non ho mai avuto nessun rapporto negativo con la federazione internazionale quello sarebbe stato veramente qualche cosa che non avremmo dovuto fare e in effetti non facevamo neanche per finta sì diciamo poi in quell'episodio richiama un po' insomma la tradizione della commedia italiana perché abbiamo raccontato anche Davide contro Golia quindi l'arte di arrangiarsi l'ingegno contro l'organizzazione teutonica è chiaro che ci siamo presi delle licenze poetiche perché non è un biopic frontale cioè ci interessava intrattenere lo spettacolo con una aderenza ai fatti e per quanto riguarda l'incidente è una scelta precisa di regista di Stefano e quindi richiama anche il materiale diciamo che c'è found footage materiale d'epoca su Toivonen però ovviamente è stato già detto sono coinvolte persone ci sono stati lutti quindi trattavamo tutto con una certa delicatezza insomma senza entrare proprio non c'è un'aderenza assoluta ma c'è la libertà creativa di stravoggere che credo che sia legittima di noi come creatori grazie grazie a tutti buone giornate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti